Vai dentro la calciata. A me non mi piace. Quale? No, quella non mi piace. Questa vai dentro lì, metti giù i piedi e vai giù. Lì non scappi. Invece là scappi. E' così, poi c'è la pianta davanti che devi girare. Ma no, vai giù. Là non c'è il sistema da fermarti, ragazzi. Vai, va, che ti firmo io a te. Farò quella stretta allora. No, no, io faccio quella lì. Qua ci sono le piante che vengono. State cagare voi e la vostra discesa vi immerda. Fa cagare quella discesa qua. La ria al culo. Molto meno quell'altra. Ma è stupida questa qua. Vedi? Eh, ma non da qua. Andiamo dall'altra parte. La facciamo al contrario. Andiamo fino all'abbazia. E andiamo in cima ai tornanti. Io scendo di là la prossima volta. Ma fa un bagno. E poi è pieno di sassi. Pieno di sassi sotto. Avevamo già provato una volta. E' pieno di sassi sotto. E' pieno di sassi sotto. E' pieno di sassi sotto. Ma fa un bacino. E' pieno di sassi sotto. Sì, vai vai! E questa è un'altra Questa?